e adesso sono qua a suonare a Cerviglia a provare ecco tra l'altro vogliamo presentare parte del tuo gruppo la mia band, lui e Carlo Balantini e Roberto Tiezzi siamo qui a Cerviglia a preparare il tour estivo e per la prima volta suoneremo quest'anno il 26 luglio a Ponticino nel mio paese in 30 anni non ci sono mai andato quindi in tutti quanti saremo e con tutti gli amici qua di Cerviglia e poi la prossima settimana cosa uscirà lo vogliamo dire? uscirà su di noi in versione remix in tutto il mondo che adesso vi cantiamo tutti insieme con gli amici su di noi, questo volevano i ragazzi qua in studio il suo gruppo su di noi nemmeno una nuvola su di noi l'amore è una favola su di noi se tu vuoi volare pronti tutti insieme su con le mani ciao ciao